non credo faccia bene respirare ok ok grazie le ossa appese erano più inquietanti anche questi non scherzano darei un tre su dieci io dico quattro sì quattro è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di qua, forse lo intercettiamo. Prima lo salvo e poi lo pesto. Andata, ma prima pensiamo a salvarlo. Oh, che cosa crede di fare? Dopo tutto quello che abbiamo... Non era abbastanza. Troviamola e basta. Oh, che cosa crede di fare? Oh, che cosa crede di fare? Oh, che cosa crede di fare? Oh, è il nipote di Burns. Per un punto Martin passa la cappa. Oh, che cosa crede di fare? Oh, che cosa crede di fare? Perché tu sei passato da qui, Senno? Dubito. Ha trovato un sentiero allasciuto. Una via meno dolorosa. Una via meno dolorosa. Come, Sam. Come, Sam. Sam. Ciao. 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 Grazie a tutti.